Ben trovati con il TgLIS di Telebari. È stata molta la solidarietà espressa per il carabiniere picchiato all'Ocorotondo dopo essere intervenuto per sedare una lite. L'uomo ha aggredito il militare e poi un collega. Messaggi di vicinanza anche dai presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Occorre rispondere con durezza e fermezza, scrive sui suoi profili social il ministro della difesa Guido Crosetto. Apprendiamo con stupore che non è stato assunto alcun provvedimento idoneo a evitare che fatti simili si ripetano, scrive invece in una nota il sindaco di Locorotondo. Furto nella notte nell'Istituto Tecnico-Tecnologico Euclide Carracciolo di Bari nel quartiere Iapigia. Un gruppo di soggetti non ancora identificati hanno rubato almeno tre computer, un mixer e altre apparecchiature acquistate con i fondi PNRR. Nonostante fosse suonato l'allarme, i ladri sono riusciti comunque a portare via il materiale. In corso i rilievi della polizia scientifica. Un cittadino barese aveva noleggiato una Fiat 500 nuova di Zecca, parcheggiata nel quartiere Poggio Franco in viale del concilio Vaticano II, la mara scoperta del furto del computerino di bordo. I ladri infatti entrati nell'abitacolo senza provocare grossi danni e smontando parte della plancia hanno portato via lo schermo touchscreen attraverso il quale si gestiscono navigatore, radio e altre importanti funzionalità della 500. Come spesso capita, purtroppo, un colpo messo a segno per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio, fenomeno che, oramai da tempo, attanaia la città. Oltre 200 firme sono state raccolte a San Girolamo per chiedere al Comune interventi su viabilità, parcheggi e sicurezza. L'iniziativa è dei consiglieri di centrodestra. Dopo aver ascoltato le istanze dei residenti, ha dichiarato Peppino Milella, Ormai esasperati, abbiamo deciso di avviare questa petizione sui tre punti più critici dei quartieri. Nei prossimi giorni saranno installati nuovi punti per poter firmare la petizione. Anche questa volta la tratta pugliese della statale 16 adriatica si conferma quella più trafficata dell'intera arteria stradale in quello che è stato il weekend di controesodo appena concluso. Come rende noto, Anas, i volumi di traffico più intensi si sono registrati proprio in Puglia, soprattutto nel barese. Nel complesso, riporta Anas, il traffico è risultato costante nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 agosto, con traffico intenso anche nelle ore notturne. Antonella Paparella è una gattara di professione. Dopo aver assistito per anni e con passione diverse colonie feline sul territorio, ha ottenuto un certificato che le consente di avere accesso ad alcuni privilegi, come la sterilizzazione gratuita per i gatti che vivono per strada e non riescono a trovare una collocazione. Come lei, altre centinaia di persone nel comune di Bari hanno ricevuto il tesserino di tutore di colonie feline. L'attività di gattaro e gattara è riconosciuta dal comune dal 2016. E il loro compito si può riassumere in coloro che si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura e il sostentamento dei felini. A loro deve essere permesso l'accesso a qualsiasi area di proprietà pubblica o condominiale dell'intero territorio comunale, per assicurare l'alimentazione delle colonie, tenuto conto che impedire il nutrimento e la cura dei felini è un reato. E adesso le notizie provenienti dall'area metropolitana e dalla regione. Ancora sangue sulle strade pugliesi, un uomo di 52 anni è morto in seguito ad un incidente a Cisternino, in provincia di Brindisi. L'uomo viaggiava a bordo di una Fiat Punto che per cause in via d'accertamento si è scontrata frontalmente con una Jeep Renegade. Vanno ogni tentativo dei soccorritori del 118 di rianimare l'uomo, indagano i carabinieri. L'incidente si è verificato nei pressi di Contrada Caranna, dove alcune settimane fa esplose un trullo in cui morì il 55enne Nicola Salatino. La sicurezza di una giostra si è sganciata durante una festa patronale e un ragazzo è stato sbalzato fuori. È successo a Capurso, in provincia di Bari. Il ferito, a quanto si è preso, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Venere di Bari. Nella caduta ha battuto la testa, ma è rimasto vigile e non è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto durante la festa della Madonna del Pozzo, patrona di Capurso. A soccorrere il giovane sono stati gli operatori sanitari del 118. I carabinieri indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e per accertuare eventuali responsabilità. Un vasto incendio è divampato nella zona fra Villa Castelli, Martina Franca e Grottaie, interessando circa 90 ettari di vegetazione. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e personale dell'ARIF. In azione anche due Canadair che hanno effettuato sorvoli con lanci di acqua prelevata dal golfo di Taranto. Alcune case, situate nelle immediate vicinanze delle zone colpite dalle fiamme, sarebbero state fatte evacuare a scopo precauzionale, ma la situazione è considerata sotto controllo. Oltre un milione di telespettatori hanno seguito la notte della Taranta in diretta su Rai 3. Il piccolo è stato registrato a metà serata con l'esibizione di Geolier. È suo il nome più chiacchierato con la canzone sarremese Ipemme Tuppetè, in una versione pizzicata. I social hanno criticato l'espressione poco entusiasta del rapper sui profili personali, neanche un riferimento alla sua partecipazione alla serata. Sul palco anche un altro nome sarremese, ovvero quello della vincitrice dell'ultima edizione del festival, Angelina Mango, che sorprende tutti nella sua performance di Su Piccolina. E con il TgList è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento. Il TgList è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi ringrazio per averci seguito.